Siamo con Sebastiano Dal Cappello della Generali Ballan, che dire, oggi è una tappa per te? Sì, l'altimetria è per me, vedremo il tempo, come sarà, se ci sarà vento, fughe, vedremo di essere davanti. La condizione? Condizione buona, vedremo dopo come sarà. Per questo giro in generale a cosa punti? La mia tappa è oggi, in un punto o altro, domani porto, devo solo arrivare, dopo l'ultima tappa, andrà bene. In bocca al lupo. Grazie.